Arrivare a 105 anni, che ricetta sei che ti usi? Quella di lavorare tanto. Quella di lavorare tanto. Per portare a 105 anni. 105 anni e non sentirli è il caso della signora Maria Moresco di Molvena di Colceresa che ha soffiato su ben 105 candeline. Una festa speciale, circondata dall'amore, dei amici, figli, ma soprattutto dei tantissimi nipoti. Una donna forte e tenace Maria, nonna amorevole e una lavoratrice instancabile. Tanti gli anni infatti passati sotto il sole cocente e la pioggia a lavorare i campi della zona. 105 anni, più di un secolo di ricordi, gioie ma anche momenti difficili per nonna Maria. Punto di riferimento della famiglia Moresco, ma soprattutto una vera e propria memoria storica per l'intera comunità. Grazie.